Benvenuti a tutti in un nuovo video della ShevanCraft e in questo video lo velocizerò perché alla fin fine qua avevo minato e è la stessa parte di ieri solamente che l'ho tagliata brutalmente e alla fin fine ho cercato di cercare il meteorite come ieri però scavando con il Destruction Catalyst che non trovavo con che materiale andasse e adesso l'ho trovato e va verso 10 minuti inizio a fare anche uno smistamento con l'Handerio quindi c'è smistamento tipo tu devi andare di qua con questo colore di qua di là andate a vedere in caso se non volete vedere via minato quindi a dopo grazie a tutti 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 extract a tutti grazie 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 a tutti no grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti